in dieci anni 205 vittime sulla strada della morte l'associazione basta vittime sulla statale 106 snocciola i numeri tragici di una mattanza senza fine solo nel 2022 evidenzia il rapporto presentato a catanzaro le vittime sono state 27 il secondo numero più alto dopo l'anno più drammatico il 2016 con ben 32 vittime si insedia a cosenza monsignor checchinato cerimonia di insediamento del nuovo arcivescovo che nell'occasione ha preseduto una celebrazione eucaristica la cerimonia è stata preceduta da un incontro dell'arcivescovo con le autorità cittadine nel salone degli specchi della provincia novità in vista per azienda zero alla luce delle risultanze dell'ultimo tavolo a duce il governatore occhiuto e pronto a rimetter mano alla mission dell'ente di governance del settore sanitario nato su suo input approvando nelle linee guida dell'atto aziendale soprattutto precisando meglio le funzioni raccolti 113 mila euro per il reparto di oncologia all'ocri il progetto dell'associazione angela serra va avanti ora si attende solo la firma di una convenzione con l'aspa di reggio calabria un accordo che permetterà l'apertura del cantiere nelle intenzioni dell'associazione a partire dal 30 giugno 2023 l'obiettivo è quello di fermare l'emorragia di persone costrette a recarsi in altre strutture spesso fuori regione per potersi curare lega senza bussola in calabria ora litigano anche i territori un'altra polemica interna lacera un carroccio sempre più balcanizzato stavolta a creare tensioni e la proposta della creazione della città metropolitana di catanzaro crotone vivo valencia ben ritrovati nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro corriere tv l'associazione basta vittime sulla strada statale 106 snocciola quelli che sono i numeri assolutamente tragici di una mattanza senza fine dalla 2013 a dicembre 2022 sono infatti 205 le vittime sulla famigerata strada della morte solo nel 2022 evidenzia il rapporto che è stato presentato questa mattina a catanzaro le vittime sono state 27 il servizio sulla strada statale 106 sono state 205 le vittime di incidenti mortali dal 2013 al 31 dicembre 2022 per un costo sociale stimato inoltre 308 milioni a rilevarlo è l'organizzazione di volontariato basta vittime sulla ss 106 osservatorio che da dieci anni raccoglie dati e pubblica un report sull'incidentalità in quella che è notoriamente conosciuta e definita come strada della morte solo nel 2022 le vittime sono state 27 il secondo numero più alto dopo l'anno più drammatico il 2016 con ben 32 vittime la maggioranza delle vittime 156 e di sesso maschile mentre il maggior numero degli incidenti mortali si è registrato nel tratto cosentino della statale 106 infine il costo medio umano per decesso supera l'1,5 milioni il report è stato presentato questa mattina dall'associazione bassa vittime in una conferenza stampa catanzaro alla quale hanno partecipato anche i familiari di alcune delle vittime mio fratello domenico spinella ero ragazzi 24 anni è venuto a mancare in un incidente stradale in cui era totalmente incolpevole un'altra auto ha invasto la sua carreggiata l'altra volta e purtroppo lo scontro è stato letale lo scontro è avvenuto al bivio di condo fuori marina un bivio molto discusso perché negli anni si sono riperrutti i numerosi incidenti in quel tratto qualche anno prima era venuto a mancare davide giuseppe sottile sempre per l'assenza di un'altra rotatoria e sempre in quel tratto era venuto a mancare qualche anno prima ancora antonella tripodi queste sono solo tre delle vittime che questi dieci anni si sono susseguiti in quel tratto di stada e quindi c'è sicuramente tanta amarezza perché nonostante queste morti non negli anni non è cambiato nulla non c'è stato alcun intervento da modernamento neanche di semplice illuminazione di quel tratto di strada l'organizzazione ha illustrato poi alcune proposte per il futuro beh innanzitutto c'è la speranza dell'associazione che quest'anno arrivi una delibera cipes che vincoli i 3 miliardi altrimenti già a dicembre 2023 ci sarà la nuova legge di bilancio che andrà a togliere qualcosa da quei 3 miliardi per portarlo chissà dove e poi c'è il problema grossissimo che anche quando questi 3 miliardi verranno vincolati e noi speriamo e abbiamo fiducia che ciò avvenga poi i tempi della burocrazia italiana non ci consentono in modo assolutamente ottimistico di pensare che questi lavori partiranno prima di dieci anni e questo significa che in questi dieci anni bisogna urgentemente fare un piano generale complessivo organico da Sibari fino a reggio calabria per la messa in sicurezza della 106 cerimonia di insediamento a cosenza della nuovo arcivescovo monsignor giovanni che chinato che nell'occasione ha presieduto una celebrazione eucaristica la cerimonia è stata preceduta da un incontro dell'arcivescovo con le autorità cittadine nel salone degli specchi della provincia grazie per essere qui così tanti così numerosi e così appassionati grazie degli impegni che avete preso solennemente davanti a me e che appunto mi saranno dati diventeranno in camera mia e siccome però queste cose le avete dette pubblicamente e poi ci sarà l'occasione in cui io dirò ma quell'impegno il settenario della madonna del pilerio patrona della città di cosenza coincide con l'arrivo del nuovo vescovo monsignor giovanni che chinato il presule è stato indicato da papa francesco per guidare la chiesa cosentina dopo la scomparsa di monsignor francesco nole originario di latina ha lasciato sansevero nel foggiano per raggiungere in calabria oggi il suo ingresso ufficiale nella chiesa cosentina è stato anticipato da una serie di incontri il primo nell'auditorium guarasci del liceo telesio il secondo nel salone degli specchi della provincia di cosenza per ricevere il saluto del prefetto vittoria ceramella del sindaco franz caruso della presidente della provincia rosaria succurro e dei sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'arci diocesi e infine monsignor che chinato ha presieduto la celebrazione eucaristica per l'inizio del ministero nella cattedrale di cosenza con i confratelli vescovi presbiteri e con i fedeli laici presenti anche i delegati fraterni delle comunità cristiane e delle religioni da oggi la chiesa cosentina ha il suo nuovo pastore sicuramente con questa bella giornata che è uscita dopo la pioggia ancora più energizzato sono stato questa mattina sulla sua tomba e gli ho affidato il futuro della diocesi importanti novità in vista per azienda zero alla luce delle risultanze dell'ultimo tavolo a duce il governatore roberto chiuto infatti è pronto a rimetter mano alla mission dell'ente di governo del settore sanitario nato proprio su suo input sentiamo nuova ricalibratura di azienda a zero dando seguito alle osservazioni alle sollecitazioni arrivate dall'ultimo tavolo a duce il governatore commissario della sanità calabrese roberto chiuto rimette mano alla mission dell'ente di governance del settore nato su suo input un anno fa nel verbale del tavolo a duce arrivato alla cittadella nei giorni scorsi i tecnici di mef ministero della salute hanno infatti espresso più di una perplessità sia sull'assetto normativo di fondo sia sul raggio di azione di azienda zero per questo con l'ultimo dca si precisa come il modello organizzativo di azienda zero e come tutte le funzioni di indirizzo programmazione e controllo siano in capo alla struttura commissariale e il dipartimento tutela della salute invece avrà il compito di supportare la struttura commissariale nell'espletamento delle funzioni lente dunque sostanzialmente inattivo ma alla luce della permanenza in calabria del commissario giuseppe profiti che nei giorni scorsi ha declinato la proposta di un ritorno in liguria alla guida del colosso sanitario san martino finalmente azienda zero potrebbe compiere il nuovo e definitivo passo in un percorso che potrebbe portare finalmente a regime lente di governance una straordinaria testimonianza di solidarietà e partecipazione nella locride dove già sono stati raccolti 113 mila euro per la realizzazione del nuovo reparto oncologico il progetto dell'associazione angela serra va avanti e adesso si attende solo la firma di una convenzione con l'aspa di reggio calabria un accordo che permetterà l'apertura del cantiere nelle intenzioni delle associazioni a partire dalla 30 giugno 2023 da quel momento secondo le valutazioni dei progettisti serviranno poi nove mesi per la realizzazione dell'opera che consentirà ai cittadini della locride di potersi curare con il mare intorno l'obiettivo è infatti quello di fermare le morragie di persone costrette a recarsi in altre strutture spesso fuori regione per potersi curare ne abbiamo parlato con attilio gennaro responsabile dell'associazione angela serra in calabria lo ascoltiamo grazie a questa straordinaria testimonianza di solidarietà e del fatto che i cittadini vogliono che sorga una nuova oncologia per trovare risposte senza dover fare mille chilometri percorsi da una malattia così grave che non consente nemmeno uno spostamento agile indipendentemente dal portafoglio ecco grazie a questo l'associazione per partire subito con i lavori in base alle nostre potenzialità e quello che noi possiamo fare nel corso di cinque anni ha deciso di attivare per noi un mutuo chilografico che sarà di 500 mila euro questo ci consente di partire anche domani per iniziare il cantiere quindi questa è la nostra volontà siamo pronti a farlo ieri insomma si è parlato di fare una convenzione con la asp per stilare un protocollo sul fatto che loro una volta che noi avessimo consegnato tutto ci potevano fornire il diritto di superficie questo consente di agire in maniera molto più veloce di quello che farebbe la parte pubblica e la nostra intenzione è iniziare cioè firmare questo accordo abbiamo dato come timing il fatto che noi dal 3 febbraio che va ieri al 30 giugno al 30 giugno vogliamo mettere il cartello che iniziamo che il cantiere è aperto quindi i lavori iniziano ed ora la politica con la lega che perde la bussola in calabria un'altra polemica interna lacera infatti un carroccio sempre più balcanizzato stavolta a creare tensioni e la proposta della creazione della città metropolitana di catanzaro crotone vivo valenzia la lega in calabria pare aver perso la bussola oltre alle divisioni tra i big divisioni emerse plasticamente all'atto delle candidature alle politiche della legge sulla ludopatia che ha portato alla sfiducia di simona loizzo peraltro appena eletta alla camera da capogruppo alla regione si finiscono le critiche agli organismi territoriali da parte del presidente del consiglio regionale filippo mancuso ora il partito si spacca per linee interne anche sul piano dei contenuti nei giorni scorsi la lega di catanzaro aveva lanciato la proposta della creazione della città metropolitana di catanzaro crotone e vivo valenzia ma la proposta è già stata sonoramente bocciata proprio da mancuso che l'ha definita una grande cavolata e ora arriva l'affondo della lega di crotone che sconfessa l'iniziativa del partito catanzarese sul tema della città metropolitana definendola una butade priva di senso logico un partito dunque nel quale convivono tante aree l'una contro l'altra come del resto emerso anche per la sostituzione nella giunta regionale della neo eletta senatrice tildeminasi con emma steine designata da salvini dopo infiniti contorcimenti del gruppo dirigente calabrese e che adesso ha assunto il ruolo di assessore regionale dopo i mugugni malumori ora anche la rissa tra le segreterie di diversi territori e chissà cosa ne penserà il leader del carroccio matteo salvini alla mezza terme invece assemblea dei popolari in rete l'obiettivo è quello di ridare nella politica centralità alla persona evidenziata la necessità di cogliere e vincere una sfida educativa che riguarda le giovani generazioni allora la presa di coscienza di persone libere che impegnate nel sociale impegnate lavorativamente che vogliono iniziare un percorso nei confronti di una calabria che sia libera una presa di coscienza che non sia a fine a se stessa o rinchiusa nella propria personale esperienza ma si traduca infatti azioni impegno e testimonianza alla mezza terme l'incontro promosso dal comitato calabria dei popolari in rete ha richiamato l'attenzione di molti evidente nelle considerazioni dei partecipanti la necessità nel momento attuale del paese della regione di costituire una rete tra persone per usare un'espressione forse un po' desueta di buona volontà significative le presenze c'era azione di carlo calenda rappresentata dal coordinatore regionale fabio scionti affiancato dal consigliere regionale francesco denisi componente del costituendo gruppo a palazzo campanella poi la galassia ex 5 stelle con l'ex deputato sapia in collegamento giuseppe demita ed il senatore di forza italia mario chiuto il comitato proprio nell'ottica del popolarismo stursiano vuole riprendere la centralità della persona centralità anzitutto per quanto riguarda quelle che saranno poi le iniziative politiche da intraprendere perché comunque parliamo di un'iniziativa pienamente politica chiaramente ai suoi inizi ma che si strutturerà col tempo siamo partiti con un comitato promotore che appunto valorizzi le persone i territori e la centralità della persona in questo contesto sta proprio a significare il fatto che è necessario un nuovo protagonismo delle persone di rilievo infine le valutazioni su giovani e sfida educativa e le istituzioni non riescono ad essere sensibili al dramma che stanno vivendo i giovani che sono ormai sdraiati alla politica non si vuole avvicinare nessuno tra poco tempo noi avremo un dramma terribile che come oggi mancano i medici mancano gli infermieri domani mancherà la classe dirigente a questo paese quindi se qualcuno non si fa carico di fare un lavoro educativo che come ripeto sempre il lavoro educativo è il lavoro più difficile perché è la libertà mia che si scontra con la libertà dell'altro di un ragazzo ed è un lavoro faticoso che anche gli stessi genitori spesso non fanno in casa quindi questo è un lavoro importantissimo se vogliamo avere un domani una classe dirigente in questo paese se non resteremo anche senza classe dirigente cambiamo decisamente argomento freddo e venti fino a burrasca sono in arrivo su gran parte del territorio della calabria lo annuncia la protezione civile regionale sono anche previste mareggiate nelle zone costiere più esposte e nevicate in montagna ed anche le previsioni meteo indicano un peggioramento già dalla pomeriggio di domani con venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori appenninici di umbria e lazio e su abruzzo molise campagna puglia basilicata e calabria con raffiche appunto fino a burrasca forte su relativi settori appenninici e su quelli costieri adriatici e ionici in estensione dalle prime ore di domenica alla sicilia specie nei settori orientali e montuosi cambiamo ancora argomento domenica ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali torna infatti domenica 5 febbraio l'appuntamento con domenica al museo l'iniziativa del ministero della cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese in tutte le strutture del territorio nazionale il 5 febbraio torna l'appuntamento mensile con la domenica al museo come ogni prima domenica del mese infatti è previsto l'accesso gratuito in tutti i musei i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del ministero della cultura aperti al pubblico le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura degli istituti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti mentre alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione in calabria sono numerosi siti che si potranno visitare a cominciare dal museo archeologico di reggio calabria uno dei più rappresentativi del periodo della magna grecia e della calabria antica è nota al mondo per l'esposizione permanente dei famosi bronzi di riace che si potranno ammirare domani in tutta la loro bellezza nella provincia reggina saranno aperti al pubblico domenicale anche il museo e parco archeologico dell'antica caulon e quello di locri oltre alla famosa cattolica di stivo a vivo invece aperti al pubblico il museo statale di mileto e il vito capialbi nel territorio crotonese invece si potranno visitare i siti della castella isola caporizzuto e il parco archeologico di capocolonna domenica aperti anche i parchi archeologici della sibaritide quello di santa maria del cedro oltre alla galleria nazionale di cosenza e il museo archeologico lamettino e il parco scolacium di borgia insomma una domenica d'arte e cultura per un'iniziativa molto apprezzata dal pubblico secondo gli ultimi dati infatti quasi tutti i grandi musei sono tornati a livelli di affluenza del 2019 anno pre covid e in alcuni casi sono anche migliorati e quindi in chiusura lo sport delicata trasferta in casa di un palermo decisamente in forma per la regina attesa domenica pomeriggio alla barbera prima della partenza mister in zaghi ha incontrato la stampa per presentare la gara alla quale non parteciperà però la tifoseria maranto ci dispiace molto insomma penso che sia brutto per noi perché giochiamo in uno stadio da serie a i nostri tifosi in trasferta sono sempre stati numerosi si sono sempre comportati bene e non vedo il motivo perché domani insomma dobbiamo giocare in uno stadio così privi dei nostri sostenitori ci privano di una cosa per noi fondamentale ci dispiace molto cercheremo di fare una grande partita anche per loro che non ci saranno per quel che riguarda abbiamo qualche defezione ma non voglio pensare a chi mancherà non mi interessa nulla questa è una squadra che ha sempre sopperito ad ogni mancanza ne abbiamo avute poche sia stati fortunati fino ad ora domani ci mancheranno qualche titolare ma che entrerà come sempre farà la propria parte i nuovi a parte terranova insomma gli altri hanno bisogno di ambientarsi per cui adesso decideremo fra cione che terranova perché terranova appena arrivato cione che insomma purtroppo sapete tutti quello che gli è successo è arrivato ieri pomeriggio dopo un viaggio e dopo delle giornate particolari sarà a me capire insomma se può giocare o può darci una mano ed è tutto per il momento ci fermiamo qui vi lascio come di consueto ai programmi dell'altro Corriere TV buon proseguimento buon proseguimento buon proseguimento buon proseguimento buon proseguimento